Giuseppe, tutto bene la mamma? Sì, sì, mamma, mi sta facendo male solo un po' con la testa, con tutta questa matematica, ma adesso mi passa. E stacca un poco, amore, rilassati, vieni. Andiamo di là, così aiuti la mamma a piegare le lenzuole ai piumoni, va bene? Va bene, mamma, sei come una camomilla. Prendi le punte, le punte devi prendere! Mannaglia di muerto, tu lo vagnoni! Queste? Le punte, queste, prendi! Quali sono le punte? Non ce ne ha punte? È ovale! Le punte queste, fai così, prendi qua e gira così! Mannaglia di muerto, tu lo vagnoni, veloce! Così? 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 Tiralo a te, che lo stiri! Tiralo a te, tiralo! Ma stiralo! No! Non lo fare cadere a terra, che l'ho lavato! Mannaglia di muerto i trovagnoni! Basta! Ma! Mi dovevi far rilassare! Era meglio la matematica a questo punto, no? Mi hai detto dieci volte di muerto i trovagnoni! Ma, ma, ma affanculo a te lo piumoni!